In questo ultimo anno e mezzo ho prodotto una cinquantina di ore in interviste live ospitando vari professionisti del settore fotografico. Abbiamo avuto i fotografi Franco Fontana, Giovanni Gastel, Olivero Toscani e molti altri. Sono tutte interviste che vi consiglio di rivedere quando vi pare e senza pubblicità. Sul canale YouTube c'è un fotografo. Ma cos'è emerso da queste importanti conversazioni che ho chiamato fotochiacchiere? Beh, molte cose preziose delle quali ognuno di noi dovrebbe fare assolutamente tesoro. Ma se dovessi sintetizzare in una parola tutti questi contenuti, se dovesse estrapolare il meglio del meglio, il succo della spremuta fuoriuscito dalle menti di tutti gli ospiti intervistati, sceglierei una parola sola. Conoscenza. Se è vero che fotografare significa scrivere con la luce, se scrivere ci permette di raccontare, allora per essere in grado di raccontare qualcosa è necessario conoscere. Il fotografo riesce a vedere solo quello che conosce. Mixtape Milano, uno spazio per fotografi e creativi e se vuoi saperne di più clicca il link nella mia bio Instagram o in descrizione a questo post. Ciao! Grazie a tutti